Parte oggi con il raduno allo Stadio Liguri la stagione 2021-22 della Turris. Un inizio soft per la squadra che anche quest'anno sarà agli ordini di Mr. Caneo. Non sono previste infatti sedute di allenamenti che invece avranno luogo a partire da domani. Ritiro invece in programma da giovedì 22 a Campitello Matese. Dopo la salvezza ottenuta non senza qualche affanno nel finale i Corallini punteranno di nuovo al mantenimento della categoria con una squadra rinnovata nei suoi effettivi e dando spazio a giovani interessanti. In questa fase di mercato si registra infatti in primis l'addio dello storico capitano Longo approdato alla Fragolese in Serie D, mentre in entrata arrivano tre giovani calciatori provenienti dal Parma, il difensore 2001 Lucarelli, figlio di Alessandro già giocatore e ora dirigente del club emiliano, il centrocampista 2001 Palmucci e l'attaccante 2000 Pavone. A raduno saranno presenti anche alcuni calciatori che sembrano avere le valigie pronte come a Bagnale, Dadalt e Rainone, mentre rientrato dal prestito da Brescia Pandolfi. Attesa ora per la composizione dei gironi della nuova Serie C con suddivisione orizzontale da nord a sud, similarmente al passato campionato, mentre il primo impegno ufficiale sarà in Coppa Italia tra i giorni 13 e 14 agosto. Grazie a tutti.